A malo risveglio questa mattina per il forum ricorda e rispetta di Andrea che sta realizzando un bosco urbano in un'area concessa dal comune e che sarà intitolato ad Ensan Grisano, la donna uccisa dal marito a fine novembre. Alcuni vandali infatti hanno divelto e piegato pali che si stanno installando in questi giorni per consentire di recintare l'intera area. Infatti stamattina quando siamo arrivati qui abbiamo trovato questi due pali piegati verso l'esterno che sono pali che purtroppo adesso dovremo sostituire perché sicuramente sono inutilizzabili per la recinzione che stiamo predisponendo per delimitare l'area del bosco che stiamo realizzando. Abbiamo piantato quasi un centinaio di alberi tra alberi e arbusti e sembrava che stesse andando veramente tutto bene ed eravamo contenti anche perché abbiamo avuto la disponibilità e l'aiuto anche dei condomini di qui della zona. E purtroppo questa mattina ci siamo ritrovati con questo danno che sicuramente non fa piacere e sicuramente non depone a favore di chi si è divertito a realizzare, a procurare questo danno. Un brutto risveglio non tanto per il valore economico dei danni ma essenzialmente perché la realizzazione del bosco urbano che conterà su oltre 100 alberi donati dai cittadini andriesi negli scorsi mesi vede un'importante partecipazione volontaria all'attività da parte di maestranze, da parte dei ragazzi del centro di salute mentale dell'Aslo BT oltre che degli appartenenti al forum stesso. La preoccupazione è che questi atti vandalici possono determinare dei danni ulteriori alla realizzazione che stiamo mettendo in piedi e con queste realizzazioni facciamo un beneficio sicuramente alla città e in particolare a chi abita in quest'area. Naturalmente se si continua con questi atti vandalici sicuramente i danni e i problemi saranno importanti da questo punto di vista. Quello che facciamo lo facciamo nell'interesse dei cittadini allora qualcuno purtroppo, qualcuno che si diverte a fare queste cose non ha capito qual è lo spirito, qual è l'importanza di queste realizzazioni. Un progetto che consentirà di dotare un'area abbandonata di un vero e proprio giardino con terrazzamenti, camminamenti, alberi e arbusti. I 120 arbusti e alberi che pianteremo qui sono stati appunto donati dai cittadini con una raccolta fondi che abbiamo fatto nel Natale dell'anno scorso e quindi adesso noi stiamo realizzando quello che avevamo promesso ai cittadini.